Mi chiamo Domenico Norato, sono un regista e sono qui al Lover's Film Festival perché presento un cortometraggio che si chiama Due Volte. Due Volte è nato come una sceneggiatura, è una sceneggiatura che è nata due anni fa, credo, per la quale ho cercato una produzione per tanto tempo e non sono riuscito a trovarla e quindi abbiamo fatto un crowdfunding col quale abbiamo raccolto 20.000 euro, è stata quindi una bella avventura. Poi abbiamo trovato anche una casa di produzione e poi abbiamo girato. Lavoro da molto tempo con Valentina Gamna che è la sceneggiatrice di Due Volte, eravamo compagni di Accademia in Paolo Grassi e un giorno lei mi ha inviato questa sceneggiatura in cui si raccontava di questa violenza di gruppo ad una ragazza all'interno della quale un ragazzo veniva costretto dagli altri. La storia era molto di più orientata sulla violenza e leggendoli ho capito, guarda Vale, ma secondo me qui c'è qualcosa di interessante, forse non è la storia di lei, forse è la storia di lui. Proviamo a descriverla così. Dopo quasi un anno di gestazione siamo arrivati a questa storia, tra l'altro Valentina è milanese, io sono campano della provincia di Salerno, quindi è stata sempre più terronizzata questa storia e poi siamo arrivati alla forma definitiva, dopo un anno di palleggio. Benché venga messa in scena una certa maschilità, penso più che la storia parli della femminilità, forse del femminino, infatti c'è questa questione del sacro, la presenza della Madonna, è una preghiera, lui entra in una piccola chiesa dove sono tutte donne, per parlare del femminilità è come parlare del mascolino, è la stessa cosa. Il fatto che questa storia sia ambientata al sud è molto importante in quel tipo di concezione, perché c'è una separazione che molti conosciamo, che poi si è cristallizzata negli anni, l'uomo in una maniera, la donna in un'altra e la religione c'entra molto in questo caso. C'è una scena girata al fiordo di furore dove è stato girato l'amore di Rossellini con Anna Magnani e in realtà la scena della chiesa invece è girata da Trani dove è stato girato Carmela e una bambola, dove è stato scritto casa di bambola da Ibsen e dove Escher ha avuto l'epifania delle scale, infatti si vede nel film che c'è tutta questa cosa labirintica, sia dei movimenti di macchina che delle scale che un po' rappresentano lo stato interiore del personaggio che diventa l'ambiente. Quale labirinto più rappresentativo delle scale di Escher? Non so se il crowdfunding sia una via obbligata per la realizzazione di un cortometraggio, lo è stato per me, lo è stato per me perché volevo fare un cortometraggio fatto bene, insomma con un budget, senza budget non si fanno bene le cose. In Italia i produttori non investono nei cortometraggi se non in particolari circostanze dove hanno già deciso di investire per il lungometraggio o per circostanze di sorta e quindi per me lo è stato. Credo che l'iniziativa dell'Overstream Festival di creare questo incontro tra produttori e registi sia molto molto importante perché in Italia ce n'è poco. Anche nella mia esperienza ho detto che per me il crowdfunding è stata un'esperienza obbligata. In realtà durante il crowdfunding ho trovato un produttore che era interessato e che probabilmente sarebbe stato interessato anche senza il crowdfunding perché produce corti. Però questo contatto è difficile. Un regista che vuole iniziare non sa come fare se non fare gli aperitivi, conoscere le persone giuste, il contatto giusto ed è tutto oscuro in qualche maniera. Due volte il mio primo lavoro che è una forma professionale, possiamo dire. Poi ho fatto una docu-serie in un dormitorio qualche anno fa che è stato anche al Milano Film Festival, però dal punto di vista proprio di cortometraggio, narrazione, con un set vero è stato il primo lavoro. Io vengo dal teatro, ho fatto tante assistenze e spettacoli e spettacoli. Quindi è stato il mio approdo come autore al cinema, primo approdo. C'è un'intenzione di destinare due volte alle scuole perché penso che gli adolescenti siano degli interlocutori privilegiati. Nell'adolescenza si risveglia un po' l'anima e quindi è il momento in cui queste tematiche premono più forte. Quindi sarebbe molto bello farlo girare, ora vogliamo capire come fare. In realtà già settimana prossima in Salento c'è un incontro internazionale, tra l'altro con adolescenti di scuole internazionali che un'associazione sta facendo, proietteranno due volte e dovrò stare in call per parlarne. Insomma, l'intenzione è quella.